Buongiorno a tutti, in questa lezione andremo a parlare di HTML, in particolare faremo una introduzione veloce all'HTML 5 che è la versione di HTML utilizzata oggigiorno per sviluppare applicazioni nel browser. Lo scopo di questa lezione è di fare una introduzione rapida alle caratteristiche che riteniamo essenziali dal punto di vista di quello che dovete conoscere per realizzare applicazioni web moderne. Andremo a vedere qualcosa sulla struttura di documenti e la sintassi e poi parleremo in maniera un po' più approfondita dei vari elementi a disposizione in HTML, in particolare nella sua versione 5, qual è il loro significato e come strutturare al meglio una pagina descritta in HTML secondo le migliori pratiche correnti. Cercheremo di fare tutto questo discorso allineandoci a quello che effettivamente viene fatto correntemente per la realizzazione di applicazioni HTML5. Questa è una timeline più o meno approssimata di HTML a partire dalla sua nascita. L'HTML, come sapete, è stato inventato da un ricercatore del CERN Tim Berners-Lee, 1991, quindi oramai quasi 30 anni fa, nella sua prima versione, che è poi stata standardizzata nella versione 2 HTML dal IETF, che come sapete è quell'organismo che si occupa di standardizzazione in ambito Internet, quindi anche dei vari protocolli e così via, l'Internet Engineering Task Force, quindi poco dopo, nel 1995 è stato standardizzato l'HTML 2.0, che poi è stato preso in mano successivamente dal World Wide Web Consortium, il cosiddetto V3C, che ha prodotto le versioni della serie 3, quindi dalla 3 in poi, 3.2, siamo intorno al 1997. Nello sviluppo della tecnologia HTML c'è stato un grande salto dalla versione 3 della versione 4, 1999, in quanto sostanzialmente nella versione 4 si sono introdotte tutta una serie di tag addizionali per venire incontro a varie necessità emerse nell'utilizzo corrente dell'HTML, che però hanno creato anche uno standard piuttosto complicato e a tratti confuso, in particolare per il fatto che nell'HTML bisogna fare attenzione a descrivere correttamente il contenuto, ma anche a separare il più possibile il contenuto e la descrizione della struttura della forma. L'HTML nella sua versione 4 ha iniziato a fare questo, in quanto si è visto che la complessità della scrittura di pagine HTML stava crescendo in maniera non più facilmente gestibile, quindi da questa versione in poi di fatto sono nati i cosiddetti fogli di stile che ci consentono di controllare in maniera più corretta e in maniera più facile e gestibile la presentazione del contenuto descritto nella pagina HTML, quindi nella struttura HTML, quindi per esempio gli aspetti relativi al tipo di font, piuttosto che colore, piuttosto che altri rispetti puramente di presentazione o anche di posizionamento. Dopo l'HTML 4 c'è stato uno sforzo nell'andare nella direzione di avere un HTML più possibile pulito, con questo XHTML versione 1.0, sempre del V3C, siamo all'intorno degli anni 2000, sostanzialmente la X sta per il fatto che l'HTML ha, in questa versione prevedeva una sintassi molto rigida, basata su sostanzialmente XML, quindi per ogni tag aperto bisognava assolutamente chiudere tale tag, non potevano essere lasciati i tag aperti, dovevano essere annidati correttamente, eccetera, l'HTML doveva essere validabile appunto da un parser XML, eccetera eccetera, cosa che invece nell'HTML 4 non era del tutto vera perché si era un po' più tolleranti, soprattutto per certi tag di uso più comune e questa specifica di fatto non ha avuto poi tutto questo successo perché sostanzialmente è stata ritenuta troppo complessa, seppur formalmente forse era una direzione accettabile magari dal punto di vista diciamo così accademico, dello sviluppo di HTML, forse la direzione che si sarebbe dovuta seguire per renderlo più formalmente corretto, sostanzialmente c'è stata una grossa discussione riguardo a questo standard, si è anche cercato di andare verso l'HTML 2.0 ma in realtà poi diciamo la tecnologia è stata portata avanti dal cosiddetto WOTWG che sta per Web Hypertext Application Technology Working Group che di fatto è quello che è dietro le operazioni di standardizzazione dell'HTML 5, sempre in collaborazione con il W3C ma diciamo ha preso un ruolo predominante, siamo intorno all'anno 2014, quindi pochi anni fa e questo sopra è il logo del WOTWG e l'HTML 5 ha la particolarità di essere rispetto agli standard precedenti un cosiddetto living standard, quindi uno standard che sostanzialmente non è mai finito, viene aggiornato in continuazione, diciamo come è la moda del momento anche in altri settori, per esempio pensate a Windows che non ha più le versioni ma sostanzialmente viene continuamente aggiornato, quindi c'è sempre un aggiornamento continuo dello standard per adattarsi alle caratteristiche, alle richieste che mano a mano vengono fuori dall'utilizzo nel mondo reale. Questi sono due link utili per andare a vedere diciamo le caratteristiche dello standard, in particolare il primo per lo standard e il secondo per un po' più orientato agli sviluppatori e quindi cerca di dare in linguaggio un po' più semplice e meno formale la descrizione dei vari elementi contenuti nell'HTML 5 che possono essere utili, utilizzati e come utilizzarli nello sviluppo di pagine web. Quindi possiamo dire che c'è stata una transizione trascurando la parentesi del XHTML tra l'HTML 4 e l'HTML 5 in quanto l'HTML 4 era sostanzialmente l'ultima evoluzione di un linguaggio destinato alla descrizione del contenuto di pagine sostanzialmente statiche, magari con qualche contenuto addizionale come plugin che venivano visualizzati nella pagina eccetera eccetera, ci si è mossi verso l'HTML 5 che è uno standard orientato alla creazione sostanzialmente di applicazioni web, quindi non solo più di contenuti statici o sostanzialmente statici. Non che le pagine web di HTML 4 dovrebbero essere forse statiche, possono anche essere loro generate, lato server eccetera con sistemi di generazione dinamica eccetera, ma diciamo che nell'HTML 5 si è sostanzialmente voluto portare nello standard questa tendenza di usare l'HTML come uno dei tanti strumenti che ci consentono di andare a realizzare applicazioni web, quindi ci sono tutta una serie di strumenti per descrivere elementi comuni a molte applicazioni, quindi la presenza per esempio di menu, cose di questo tipo e anche dei meccanismi più utili e facili da utilizzare per quanto riguarda la gestione dell'interazione con l'utente, che è chiaramente una delle caratteristiche principali delle applicazioni. Ecco, HTML 5 in realtà non è un unico standard, si parla generalmente di HTML 5 ma ci si riferisce in realtà a tutta una serie di tecnologie come vedete su questa slide. diciamo che le specifiche del V3C sono sostanzialmente quelle che vedete qui in blu, quindi c'è una parte core che è sostanzialmente la parte dei tag eccetera, il parser e tutto quanto, poi ci sono, quindi questo è sostanzialmente ciò che è stato derivato dagli standard HTML precedenti, poi c'è la parte del WOT VG, quindi sostanzialmente tutta una serie di caratteristiche aggiunte da questo gruppo di lavoro a questo working group, quindi per esempio tutta una serie di servizi disponibili come web storage, workers, web socket e così via. altre caratteristiche al di fuori addirittura di quanto specificato dal WOT VG, quindi tutta una serie di funzionalità che non sono definite strettamente appunto nella specifica HTML e che mano a mano si espandono sempre di più e che arrivano fino a toccare quello che viene sostanzialmente portato avanti da altri gruppi di lavoro. Non andremo a vedere tutte queste caratteristiche nel dettaglio, tutte queste tecnologie, ma ci concentreremo solo su alcune mano a mano che andiamo avanti nel corso, quelle che ritorniamo più utili e più indispensabili a portarvi a riuscire a realizzare facilmente applicazioni web ben strutturate e solide. Una caratteristica interessante che esploreremo nella prossima lezione è quella dei fogli di stile che sono quelli che ci consentono e in HTML5 sono l'unico modo che ci consente di presentare il contenuto scritto nel linguaggio HTML per quanto riguarda la pagina nella maniera che vogliamo noi, quindi dal punto di vista della presentazione, quindi pensate alla dimensione del font, il colore, tutte queste cose, piuttosto che la disposizione dei contenuti all'interno della pagina. Essendo HTML5 un standard, dicevamo live, quindi che non è mai finito perché viene sempre aggiornato, è chiaro che viene da chiedersi quale sia il supporto da parte di vari browser. Un browser che dica che supporta HTML5 di fatto non dice nulla perché non si sa fino a che punto lo supporti. Per fortuna esistono comodi servizi come quello che vi indichiamo qui, servizi web, cioè di fatto una pagina che potete consultare nel momento in cui andate ad utilizzare funzionalità un po' recenti di HTML5, potete andare a vedere quali sono le versioni minime dei browser che supportano queste funzionalità, se le supportano o non le supportano e così via, quindi farvi una vaga idea della percentuale di utenti che potrebbero non avere a disposizione quella funzionalità e quindi capire se per voi questa cosa è ancora accettabile oppure no. Quindi vi invito ad esplorare questo sito caniuse.com e andare a cercare le caratteristiche che potenzialmente vi interessano e vedete che ci sono di fatto tutti i browser di uso più comune sia nella piattaforma desktop sia nelle piattaforme mobili, quindi per Android, da qualche parte ci sarà anche iOS e così via. Quindi attenzione alla compatibilità però diciamo che con una serie di tecniche quindi cercare di non usare tecnologie troppo nuove o comunque se le tecnologie sono nuove magari c'è la possibilità di includere librerie o elementi, moduli e così via che vedremo che in JavaScript cercano di compensare per certe mancanze e possiamo comunque andare ad utilizzare nelle nostre applicazioni l'HTML5 in una maniera che riteniamo buona e utile per la realizzazione delle nostre applicazioni web. Cominciamo col vedere una struttura HTML di base, quindi diciamo il documento minimo HTML. Come vedete HTML5 ha una prima riga, la Doctype Declaration, molto semplice tra l'altro solamente Doctype HTML con punto esclamativo davanti, che confrontata, se voi conoscete l'HTML4 è una semplificazione notevole. In HTML4 la linea era molto lunga con possibilità di scegliere valori attributi eccetera eccetera e qui è stato tutto semplificato, un HTML5 inizia così. E poi c'è un tag HTML che può contenere solamente due tag, uno che si chiama ed e l'altro che si chiama body, i quali a loro volta possono contenere altri tag annidati. C'è un annidamento molto stretto, nel senso che è necessario che gli elementi siano annidati correttamente, quindi siano chiuse correttamente perché così il browser è in grado di ricostruire correttamente la struttura del documento HTML e quindi creare una struttura dati che lo rappresenta in maniera corretta. La cosiddetta struttura DOM che vediamo tra un attimo. Analizzando questo piccolo esempio vediamo per esempio che un elemento potrebbe essere costituito dal tag A, che quindi il tag che serve a creare i link, con un suo attributo, href uguale qualcosa, ogni tag ha il suo set di attributi con un specifico valore, in questo caso l'identificativo del link, quindi la stringa corrisponde al link, il tag di fine, quindi l'aperto e il chiuso tag e poi un contenuto che in questo caso è del testo, è semplicemente del testo. Al di fuori di questo analogamente annidato dentro P c'è il tag A con dell'altro testo e così via. La struttura appunto è obbligatoria, prima linea deve esserci questa dichiarazione, un elemento HTML con due soli elementi figli che sono l'elemento add, che sostanzialmente contiene tutta una serie di informazioni che corrisponde ai metadati o altre informazioni utili al caricamento della pagina, oltre al titolo, come per esempio i fogli di stile, quindi per la presentazione, eventuale codice e così via, e il body che contiene effettivamente il contenuto della pagina. Nel nostro semplice esempio avevamo il titolo e poi il contenuto della pagina, senza aggiunte per non complicare troppo l'esempio. Il browser quando incontra questo documento, che è un documento scritto in caratteri Unicode, quindi supporta anche caratteri non necessariamente latini, quindi tutti i caratteri in tutte le lingue del mondo sostanzialmente, supportate dall'Unicode, il browser fa il parsing di questo documento e che risulta in una struttura nella memoria del browser stesso di questo tipo, quindi una struttura ad albero che contiene la dichiarazione più l'HTML che avrà due figli eventualmente separati da testo, testo che sostanzialmente è la capo, spazi, quindi caratteri che non verranno presi in considerazione verranno eventualmente scartati nella fase di rendering. Comunque dal punto di vista del parsing, tutte le volte che si incontra del testo o dei caratteri è necessario inserirli nel corretto punto dell'albero di parsing, che quindi di fatto va poi a rappresentare appunto questo albero che è costituito dal document object model, cioè il modello del documento che abbiamo caricato e su cui poi tramite il codice potremo andare ad agire con degli appositi metodi. Quindi in questo esempio prendiamo sempre questa riga P, abbiamo che il tag P che è aperto e chiuso, quindi il parsing capirà dove è chiuso, contiene al suo interno anni dato, testo, un altro tag A, aperto e chiuso e del testo, quindi avrà tre figli, testo, testo, il tag A e il tag A a sua volta al suo interno avrà dell'altro testo che è questo simple e l'altro sample che però è al di fuori. Ogni tag può avere degli attributi, per esempio in questo caso c'è l'attributo href che ci dice qual è il valore del link. Quindi in HTML c'è una struttura ad albero dove i nodi sono degli elementi e questi elementi sono sostanzialmente identificati da un markup, il markup è sostanzialmente la possibilità di dichiararli tramite quelle parentesi minore e maggiore che è la sintassi definita da HTML per identificare i tag. Quindi abbiamo un markup di tipo semantico nel senso che viene raccontato il contenuto della pagina dal punto di vista semantico, voglio scrivere un certo tipo di contenuto, voglio che ci sia un link, voglio che ci sia un titolo, che ci sia un paragrafo e così via. Dal punto di vista della presentazione, questo verrà gestito successivamente dal browser, quindi renderizzato graficamente secondo quanto verrà indicato in apposite altre istruzioni che sono i fogli di stile. Possibilmente il codice HTML non dovrebbe avere a che fare con questioni di presentazione che dovrebbero essere gestite tutte nei cosiddetti fogli di stile. Se voi andate a vedere la specifica di HTML5 non ci sono tag per fare presentazione, quindi non ci sono per esempio modi di specificare che un certo font deve essere un certo tipo, una certa dimensione e così via. Questo è completamente demandato all'esterno ai fogli di stile per una questione di migliore gestione di tutto il meccanismo di presentazione. Ricordiamo qui però, perché ci verrà utile più avanti, in particolare quando parleremo dei fogli di stile, ma non solo, che gli elementi HTML hanno una certa serie di caratteristiche, in particolare un valore, per questo attributo display, che può essere di due soli tipi. E questo lo ricordiamo e lo diciamo perché è importante dal punto di vista di come l'annidamento degli elementi può essere fatto, è assolutamente importante. Ci sono gli elementi che hanno un display di tipo block e block significa che vanno una volta disposti sulla pagina, sono elementi che ci si aspetta tengano tutta la dimensione della pagina e ognuno viene messo sopra l'altro, dalla cima al fondo della pagina, quindi a partire dalla cima fino al fondo della pagina. Ovviamente possono essere annidati, quindi se è all'interno di un elemento di tipo block o più elementi, questi verranno disposti sempre in ordine dalla cima al fondo, quindi dall'alto in basso, però all'interno del blocco dell'elemento superiore di tipo block. Ci sono poi degli elementi che per loro natura invece sono di tipo in line, cioè sostanzialmente non vengono messi uno sopra l'altro, quindi non iniziano una nuova linea, in parole povere non vanno a capo, occupano solamente lo spazio necessario e quindi non tendono ad occupare tutta la riga e quindi richiedere che il blocco successivo vada sotto e quindi hanno un layout di default di disposizione all'interno della pagina che si muove secondo la disposizione del testo, cioè sostanzialmente da sinistra a destra. Chiaramente gli elementi di tipo in line non potranno essere annidati elementi di tipo block, perché altrimenti chiaramente non sapremo come fare essendo che questi vogliono disporsi dall'alto in basso e andare a capo. Esistono una serie di categorie, esiste una serie di categorie di elementi HTML, quindi i vari tag previsti dalla specifica WattVG dell'HTML5 sono suddivisi nelle categorie di sectioning, quindi sostanzialmente ci consentono di definire le varie parti del documento, quindi ci consentono di dire che c'è una parte iniziale, una parte finale e così via. C'è la categoria di heading, quindi che ci consente di dire questo è un titolo, questo è un titolo a livello inferiore e così via eccetera. Ci sono gli elementi di phrasing che di fatto ci consentono di descrivere il contenuto del testo, quindi a livello di paragrafo e al di sotto del paragrafo, quindi annidato all'interno del paragrafo e poi ci sono gli elementi di tipo flow che includono la maggior parte degli elementi, come vedete dal disegno. Gli elementi di sections and heading li vedete sulla slide, questi sono quindi tag HTML5, in particolare questi 4 sono stati introdotti proprio dalla specifica HTML5 come nuovi tag, quindi che ci consentono di descrivere il contenuto dell'article, un'eventuale barra a sinistra che contiene informazioni addizionali, una barra di navigazione ed eventuali sezioni. Quindi la barra di navigazione ovviamente è un elemento che è adatto alla realizzazione di un'applicazione perché in quel posto metteremo gli elementi del menu che ci consentono di andare ad utilizzare varie funzioni dell'applicazione e così via e chiaramente sono adatti solamente a descrivere il contenuto di un'applicazione e non un semplice testo. Un semplice testo, pensate un libro, non ha bisogno di un elemento di navigazione nella pagina corrente, mentre invece un'applicazione sì. Quindi questo va nella direzione di strutturare il contenuto della pagina HTML nella direzione di andare a descrivere il ruolo di ogni parte dal punto di vista semantico. Poi ci sono gli elementi che ci consentono di descrivere i vari tipi di heading, quindi i titoli di livello vario, quindi dal livello maggiore al livello capitolo, sotto capitolo e così via. E tutta una serie di altri elementi come per esempio header e footer che appunto ci consentono di descrivere elementi che stanno insieme ed è logico che stiano in certe posizioni della nostra applicazione. Per esempio voglio vedere una cosa all'inizio delle mie pagine e è logico metterla in un tag di header e così via. qui trovate tutta la descrizione secondo le specifiche, quindi non stiamo ad entrare in tutti i dettagli, se avete bisogno appunto avete la possibilità di andare a consultarla in caso di necessità. Questo è il risultato di cosa avrebbe fuori pensando a questi elementi, quindi diciamo che se volessimo visualizzare una pagina di un'applicazione web moderna, diremmo che c'è una pagina principale, quindi un article con i suoi heading, quindi H1, H2, sulle sottosezioni e così via, con i suoi contenuti, con magari un aside, quindi una barra di navigazione che ci consente di fornire informazioni contestuali e così via. Non necessariamente a sinistra, può essere dovunque e in realtà questi tag non specificano questa parte che è lasciata appunto i fogli di stile e poi per esempio un header dove ci sono delle funzionalità magari utili in qualsiasi punto della nostra applicazione e un footer per visualizzare informazioni o altre cose di interesse generale. Veniamo agli elementi di raggruppamento, grouping, di tipo blocco e questi sono sostanzialmente quelli che vedete, non stiamo ad annoiarci a leggerceli tutti, però sottolineo alcuni di questi, per esempio l'elemento P che abbiamo già incontrato, il paragrafo di testo, che serve a separare logicamente blocchi di testo collegati tra loro, appunto i paragrafi, oppure le liste, lista non ordinata, scusate ordinato, ordered list, oppure non ordinata, un ordered list, o eventualmente una lista di definizioni, oppure un menu, perché bisogna sempre distinguere, almeno a livello concettuale, ciò che è una lista e ciò che invece è un menu. Una lista è semplicemente un elenco di cose, un menu è un qualcosa da cui vogliamo poter scegliere un elemento oppure un altro. Se non troviamo niente che soddisfi diciamo in termini di uso il nostro contenuto, abbiamo sempre un elemento generico, già presente peraltro nell'html versione precedente, il 4, che è il div, che non ha un significato speciale e che può essere usato, e anzi viene spesso usato nelle pagine, quando è necessario raggruppare degli elementi insieme per vari motivi, i tecnici piuttosto che di sviluppo e così via, e che però non ha un significato particolare dal punto di vista della semantica. elementi di phrasing, quindi tag, che possono essere usati, questi sono di tipo inline, non sono di tipo blocco, e quindi diciamo così, non vanno a capo, sono formatati da sinistra a destra, e vanno a capo solamente quando finisce la riga, come il testo normale, e tra questi troviamo l'elemento di anchora, il link, piuttosto che gli elementi che servono ad evidenziare del testo in una maniera piuttosto che in un'altra, bold, strong, piuttosto che emphasized, e così via, piuttosto che l'elemento immagine, piuttosto che tanti altri elementi. Anche qui richiamo la vostra attenzione su un elemento particolare, lo span, che è un elemento che non ha un significato particolare, ma serve a racchiudere una certa serie di elementi di tipo phrasing, quindi testo o testo più altri elementi di questo tipo, e così da poterlo gestire in maniera più facile tramite del codice, o potersi riferire ad esso in maniera particolare, con gli attributi che vedremo tra poco. Esiste una serie di elementi di tipo interattivo, abbiamo visto l'A, che quindi oltre che essere di phrasing è anche interattivo, nel senso che se voi cliccate su un link, chiaramente scatenate un'azione da parte del browser, questo è proprio l'esempio classico, e ogni elemento può avere degli attributi, in particolare per esempio l'A ha l'attributo href, hyperref, e che quindi ci dice a quale link dobbiamo fare riferimento, a quale nuovo urlo dobbiamo fare riferimento nel momento in cui questo link viene cliccato. Ci possono essere elementi di altro tipo, come i form, che contengono bottoni, caselle di input, dove si possono fare delle selezioni, scrivere del testo, piuttosto che altri elementi più interattivi, come audio e video, che sono di nuovo tag introdotti, in particolare a partire dall'HTML5. Quindi sono elementi specificatamente pensati per interazione da parte dell'utente. Altri elementi interessanti sono quelli della tabella, gli elementi che ci consentono di descrivere le tabelle, che in HTML5 sono particolarmente ricchi di tag, il table l'abbiamo, probabilmente lo conoscete già, ma qui abbiamo un table header, quindi che ci consente di raggruppare delle righe, un table body che sono le righe che effettivamente contengono dei dati, table foot eventualmente per dei totali o cose di questo tipo, e poi ci sono gli elementi che descrivono una tabella, la table row, piuttosto che il table data, quindi la cella, piuttosto che una cella di header, e così via. Può avere una caption, sopra o sotto, dove verrà posizionata, dipende appunto dai fogli di stile, e poi ci sono una serie di attributi, per esempio row span e call span, per riuscire a realizzare architetture di celle anche abbastanza complicate, per esempio qui abbiamo delle celle che ricoprono, quindi fanno il call span su due colonne, perché abbiamo necessità di separare queste due, e quindi in verticale, per esempio, queste fanno il row span su quattro righe, e quindi la tabella verrà renderizzata con delle celle più grandi che ricoprono una struttura griglia più fine, senza che, cioè che logicamente sono tutte celle unite, e questo è dovuto al fatto che usiamo questi attributi appunto per descrivere come sono fatte queste tabelle. Attributi comuni a tutti gli elementi, ed è il motivo per cui li nominiamo qui, perché sono comuni a tutti gli elementi, quindi non specifici di un singolo elemento, come invece per esempio l'href che abbiamo visto prima, sono l'attributo class, id, e poi vedremo anche lo style. Class è una lista di identificativi di classe separata da spazio, quindi rappresenta tutte le classi al quale questo elemento appartiene. In generale queste classi sono sostanzialmente dei riferimenti usati, per esempio, dei fogli di stile o del codice, per applicare lo stesso tipo di presentazione o comportamento agli elementi della stessa classe. Sono pesantemente usati dal CSS e dal JavaScript per fare il match di porzioni di contenuto, e quindi appunto per riuscire da codice, JavaScript o CSS a riferirsi a tutti gli elementi che logicamente appartengono a una certa categoria, e possono appartenere anche a più di una categoria con questa semplice sintassi separata da spazio. L'attributo id invece ci consente di definire un identificativo univoco, che deve essere unico all'interno del documento HTML, e di nuovo è usato ampiamente nel CSS e nel JavaScript per trovare facilmente e matchare uno specifico elemento, uno ed uno solo. Quindi senza dover andare a navigare ad attraversare tutto l'albero del DOM, conoscendo l'attributo id ci sarà un apposito meccanismo per andare a referenziare l'unico, il solo elemento che ha quell'attributo id pari ad un certo valore. Esiste poi un terzo attributo, dicevamo, style, che è disponibile su tutti gli elementi HTML e che consente di applicare una certa specifica regola all'elemento corrente. Da usare in maniera molto rara, anzi da evitare se possibile, preferendo invece regole inserite nei fogli di stile che si riferiscano agli elementi tramiti di classe. Diciamo che per fare qualche esperimento, per fare una modifica proprio particolare e puntuale, può essere possibile utilizzare questo meccanismo, che però introduce un elemento di presentazione nel codice HTML e quindi da questo punto di vista introduce una dipendenza che sarebbe meglio evitare, per mantenere separata la presentazione il più possibile del contenuto. Esistono degli elementi utili in vari casi, li abbiamo evidenziati già prima, quindi riprendiamo il div, che quindi è un elemento di tipo block che agisce da container, che non ha una semantica predefinita posso usarlo dove voglia all'interno della mia pagina per contenere ovviamente elementi di tipo block o inline. Non è visibile nel layout, quindi è solo un modo di racchiudere nella struttura ad albero del DOM degli altri elementi ed è utile per marcare dei blocchi o gruppi di blocchi con specifiche classi, per esempio. Quindi il div ovviamente può usare un class uguale a qualcosa e avendo questo, applica questa classe sostanzialmente a tutti i suoi elementi figli. Lo span è l'equivalente ma di tipo inline e quindi anche se non ha una semantica predefinita e invisibile, serve a marcare degli elementi di tipo inline come per esempio dei pezzetti elementi di test, piuttosto che pezzetti con altri tag inline come che so, link piuttosto che emphasis piuttosto che altre cose e riuscire a riferirsi a questi elementi, a questi pezzetti quindi questi elementi di tipo inline di nuovo tramite un class piuttosto che un id. ovviamente avendo a disposizione il div potremmo pensare di dare uno specifico identificativo che descriva che tipo di div è e quindi cosa tendo a metterci dentro all'interno, diciamo nella struttura del mio documento HTML, quindi creando un div per l'header, un div per il footer, un div per la barra di navigazione e così via. Questo è sconsigliato nel senso che in HTML5 essendo presente questa necessità appunto nella realizzazione delle pagine e essendo molto comune, si è pensato di creare direttamente dei nomi appositi per i tag che già di loro portano la semantica di quello che dovrebbe essere presente nell'elemento stesso. Quindi nell'elemento di tipo header ci aspettiamo appunto che ci siano informazioni presenti nell'header della pagina HTML e quindi non abbiamo più necessità di raggruppare tutto quello che c'è nell'header usando un tag di tipo generico, quindi un div, semplicemente specificandolo oppure specializzandolo tramite un attributo che potremmo usare magari per fare altro, quindi per esempio in questo caso l'id. Notate bene che il modo di presentare i vari tipi di tag, quindi div piuttosto che i vari tipi di tag in HTML5, section header, nav eccetera eccetera, è esattamente uguale, cioè entrambi non fanno niente di particolare dal punto di vista della rappresentazione, sono le regole CSS che ci diranno come presentarli sia dal punto di vista grafico che dal punto di vista del layout. Qui vediamo un altro esempio di layout tipico, ma di nuovo il layout così come verrà presentato dal browser dipende dal foglio di stile che è collegato alla pagina, per esempio a fronte di questa struttura, quindi i body con un header, con un elemento di navigazione al suo interno, con una barra laterale e con un elemento main che conterà article, section e così via, un eventuale footer, presentiamo questo tipo di layout in cui notate la barra laterale, in questo caso a sinistra, nel caso precedente era a destra, è sempre lo stesso tag, ma il posizionamento, la disposizione e così via, verrà data dal foglio di stile collegato e impareremo nelle prossime lezioni a gestire bene questi fogli di stile. Quindi l'importante è in questo caso usare i tag corretti per la semantica del contenuto che vogliamo andare a presentare. In questo flowchart preso da HTML5 Doctor, vedete una descrizione dei passi che dovreste seguire per decidere qual è il tag che dovreste utilizzare nel momento in cui avete da inserire un certo tipo di contenuto all'interno della vostra pagina HTML, seguendo la regola e il ragionamento che dovrebbe fare uno sviluppatore di HTML5. Quindi se è un blocco di navigazione importante, nav, piuttosto che ha un senso di per sé, quindi è un article che poi a sua volta può essere suddiviso in sottoparti e così via, è richiesto per capire il contenuto? No, allora potrebbe essere una sidebar, quindi una barra laterale, eccetera, qualcosa di questo tipo. si può mettere in un appendix, va bene, una figura, eccetera, e è logico aggiungerlo, se ha senso aggiungere un nuovo heading, quindi un nuovo titolo, sì, allora vuol dire che metto il titolo e poi faccio una sezione, ha un qualche tipo di semantica, tipo un paragrafo, un indirizzo, un pezzo di codice, e così via, e solo come ultimo caso, bene, allora se non c'è proprio niente, devo assolutamente usare un blocco, allora uso il blocco generico che appunto è il div, che mi è utile per agganciarlo, come dicevamo, da CSS, piuttosto che da codice JavaScript e così via. Qui vediamo un esempio, per meglio dire, non si vedrà tanto nella registrazione, forse poco anche nelle slide, ma avete il link all'immagine originale, ed è un insieme di buone pratiche che ci è parso utile evidenziare quando si scrive un buon codice HTML, quindi qui abbiamo del codice HTML, qui va bene, all'inizio sarà il doc type, codice HTML5, quindi doc type, title, quindi mettono un titolo che abbia un senso, caricare i CSS, nella sezione body, avere una sezione ordinata, con dei blocchi descrittivi, come dicevamo, usando i tag corretti, una gerarchia ben fatta, eventuali attributi dell'immagine, eccetera, classi, classi che abbiano un significato semantico, se serve, piuttosto che ID per andare a ganciare correttamente certi elementi, caricamento di codice javascript, indentazione ben fatta, percorsi dei file, eccetera, eccetera, insomma potete vedere tutto quello che comunemente può trovarsi in una pagina, inclusi commenti, per esempio, è possibile inserire anche dei commenti, ogni tanto può essere utile inserire i commenti, avere un documento che si valida secondo le specifiche del parser HTML5, e questo è importante, anche se i browser molto spesso sono abbastanza tolleranti, quindi tendono a riuscire a parsificare, a mostrare comunque documenti che magari non sono perfettamente validabili, però cerchiamo di seguire il più possibile queste buone pratiche, se voi aprite un sito qualsiasi, chiaramente difficilmente trovate un sito ben scritto così, da un lato perché è difficile seguire sempre le buone pratiche, chi sviluppa ha diverse pressioni dal punto di vista di tempo, di risorse, risorse limitate e così via, e dall'altro perché dal punto di vista del browser, per esempio, tutta l'indentazione, eccetera, è inutile nel senso che il parser funziona comunque anche senza che ci sia tutta l'indentazione, eccetera, però nel momento in cui questo è il codice vostro sorgente di voi sviluppatori che andate a scrivere la pagina, è importante avere un po' di ordine per riuscire a non avere problemi dal punto di vista dello sviluppo, non fare confusioni e così via. E poi quello che viene effettivamente preso, convertito e messo a disposizione sul sito finale può anche essere una cosa un po' diversa. Quindi qui sostanzialmente concludiamo questa lezione e cerchiamo appunto di andare a seguire quello che abbiamo imparato in questa breve introduzione ad HTML5 e alle buone pratiche che abbiamo cercato di spiegare in questa lezione, perché ci verrà poi utile per realizzare applicazioni web, ben fatte, ben costruite, ben organizzate, che siano quindi più facili da mantenere, più facili da gestire, più facili da debuggare e così via. Quindi con questa lezione terminiamo qui e nelle lezioni successive andremo invece a parlare di presentazione, quindi parlando di fogli di stile, quindi vedere come quanto inserito qui in HTML5 i termini contenuto come può essere presentato nella finestra del browser, sia in termini di grafica sia in termini di layout. Grazie per l'attenzione.